ciao ragazzi bentornati su kirby e la terra perduta nello scorso episodio abbiamo fatto parco perdis e ovviamente al 100% e in questo episodio andremo nella cima perdis quindi vi invita a scrivervi a lasciare un mi piace non mi piace e andiamo ok va bene direi di partire veramente a lampo allora tre bella doppia intanto un sole c'è un sole un'anima devo va ok devo fare così allora da queste parti non c'è niente meglio controllare non si sa mai no ok sembra non esserci nulla allora per un centesimo di c'è per un centesimo per un millesimo un millimetro qualcosa allora andiamo di qua non c'è niente qua comunque come dire come va a voi la ricerca di questi cosi mi dispiace se sono un po' eh ma come dire ho avuto una bella giornata veramente veramente bella allora ovviamente ironico allora cerchiamo di fare ok siamo a tre ok qua va bene qua c'è qualcosa no allora da questo lato c'era la zona segreta si però era davanti era qua sopra ok c'è un'anima comunque lo scorso episodio mamma mia che che roba è stata sconfiggere aspetta aspetta c'è devo no qui non si può fare eh datemi un secondo ok qua non c'è niente perchè lì c'era ok no non c'è nulla ok eh c'è avete visto non c'era niente poi forse sbaglio io ma non c'era nulla e ho ottenuto un'anima vabbè allora andiamo di qua comunque dicevo mamma mia lo scorso episodio com'è stato orrendo sconfiggere green fiolina green fiolina spettrale senza abilità mamma mia è stata un'impresa allora siamo a sette eeeh 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 vai eeeh 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 a esaurite eeeh 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 Cioè, a che serviva quindi quell'affare? Cioè, non è che forse serve per andare avanti? No, devo utilizzarlo per rompere di là. Ah, mannaggia. Devo rifare il livello. O forse potrei riavviare? Nah, dai, rifacciamolo da capo. Allora, qui non c'è altro. Grazie. Cioè, devo andare qua. E con le poche lattine devo distruggere questo. Quante ne ho mancate? Più o meno tre, sembra. Ah, quanto odio questa cosa. Vabbè. Se ne ho mancate tre, so già che sono lì. Allora, qua dietro non c'è niente. Ricordo ancora. Dicevo. Ricordo ancora che... Se coso non dice... Ehm... Ok. Ehm... Qua non c'è più nulla. Vuol dire che c'è sempre qualcosa. Ehm... Grazie. Ok. Siamo a dodici. Quando in realtà dovevamo essere... Dovevamo essere... Circa... A... Forza. Quindici. Ok. No. Fregatura. No. E... Kirby? Ah, posso... Non ci credo. C'è, si può saltare. Io che ne sapevo. Ah. Quanto amo questo gioco. Quando mi fa scoprire robe nuove. Allora, di qua. Ok. Ok. Ok, siamo a sedici. Ehm... Mamma mia, come sta andando male oggi. Allora. Ok. Qui le ho prese tutte. Ok, mi manca solo l'inizio. Ok. Ok. Ehm... No. Ok. Ehm... Cerchiamo di andare. Grazie. Allora, sto cercando di parlare gioco. Dicevo. Ehm... Ehm... Ma se non salta... Non lo sto facendo apposta. E lo giuro. Ok. 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 Allora, dicevo. Ah, ok. Con la spina... Con l'abilità spino, non... Eh, grazie. Non ci si muove. Se si è spinti. Eh. Odio queste palle di fuoco. Ok. Ok. Allora. Cerchiamo di fare le cose per bene. Allora, là sopra c'è roba. Ok. 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 Allora, di qua non c'è niente. Mamma mia. La prima parte... Un casino. Questa idem. Ok. 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 Il ponte è ghiacciato. Allora. Cerchiamo di fare le cose. Ok. Non dirmi. Allora, se c'è una parte nascosta da queste parti, giuro mi arrabbio. Grazie. Ma... Dammi. Eh. Ok. 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 Il mega cavaliere sarà un gran casino. Ok. Ok. T'ho visto. T'ho visto. T'ho visto ora. Allora, forza. Questa è un'esplosione. Ah, la respinge. Oh. Ok. Ok. Cignierina va bene con questa. Ok. Ti ho vista. Ouch. Penso ce n'è una per boss No Mannaggia Ok tornado cupo va meglio Ouch Ok ultimo boss Ok dado pagos No Ho bisogno di questa No Ok E l'ultimo è laggiù Ok dammi questo Cioè questo Questo vale un po' di anime dai Tre dai Vabbè Ok le ho prese tutte Ma da questo lato Una pietra Vabbè Che succede se Niente Ok vero non c'è niente Nulla ok Allora Possiamo andare avanti No No Prendiamo questa Non si sa mai E Ok No No Grazie No Ok Sto cercando di riguardare da tutte le parti Ma penso che ne ho mancato un bel po' E ho mancato questo qua E invece no Eh, ok No, no, ti prego le correnti, no, le correnti, no Quanto odio le correnti Ok Levati, levati, levati No Qua, ok, non c'è nulla Qua c'è qualcosa, non mi prendi in giro te Oh Ok, no Qua c'è qualcosa No Mamma mia Cinque minuti Grazie Eh, no Ok Cinque minuti ci ho messo per fare questa cosa Allora Allora Tre Cinque Cinquantuno Perché Quarantasei e cinque Cinquantuno Ok Quindi ho mancato le prime tre Basta Spero Allora Ehm Il boss Facciamo ghiaccio Nemico illusorio Kinded ed è spettrale Ehm Ok Oh Quanto sei brutto Mi hai fatto perdere anche l'abilità C'è mamma mia quanto sei C'è sembra pazzo Non sto scherzando Sembra pazzo Mamma mia No, mi farà venire gli incubi con quegli occhi C'è con quegli occhi Mamma mia Eh Ah, sono No Ok Ah Ouch Devo potenziare l'abilità Perché gli fa pochissimo Ouch Chep Chep Ehm Ok No, no Ti prego No No L'ho visto all'ultimo Oh Ehm Ehm Ah No, dai, non ancora Uffa Forse non dovevo rimuovere l'abilità Ghiaccio Eh No, no, no No, come vuoi essere chiamato Ouch No, non voglio perdere, dai No C'è, ho perso per la seconda volta, dai E stavolta però non c'è il coso, ok Mamma mia che danno inesistente Ok Ovviamente questa Questa sconfitta la lascio perché è ovvio che devo lasciarla, dai C'è, non gli faccio niente di danno Da seriamente potenziare l'abilità Ok 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 Ah però si congela prima Però si congela prima Ok no Con l'abilità ghiaccio è molto più veloce Cioè Ci metto veramente un attimo E ho mancato tre anime Giusto Esatto Le prime tre della prima parte di livello Mega camion E adesso Devo rifare il livello Per fare quelle tre Niente Ci vediamo lì Comunque Mamma mia Quanto è stato facile Con l'abilità ghiaccio E prese Le tre che mancavano Erano letteralmente Allora Non ricorda Kirby Dunque mamma mia Con l'abilità martello mascherato è una cavolata Cioè Gli fate un pozzo di danni L'unica cosa è raggiungerlo E basta L'unica cosa è raggiungerlo Allora Ehm Qui posso prenderne altri O no No Non posso prenderne altri Ok Quindi abbiamo finito E nonostante Io debba Potenziare l'abilità Penso che non lo farò Per il momento Poi Vedrò quando ci sarà la necessità Comunque Dicevo Abbiamo finito Nel prossimo episodio Di Kirby E la terra perduta Andremo a fare Il prossimo livello Delle isole da sogno Quindi Vi invito a iscrivervi A lasciare un mi piace O non mi piace E al prossimo episodio Ciao